Ciao a tutti amici e benvenuti in questo video, innanzitutto grazie a tutti perché ho raggiunto e anche superato i 5500 iscritti e io voglio ringraziare ognuno di voi, proprio i primissimi iscritti quando avevo un iscritto, due iscritti, sembrano cose così lontane e fedelissimi soprattutto perché sono ancora grandi amici sul canale ma anche le ultime persone che si iscrivono proprio in questi giorni e mi farebbe piacere se proprio loro guardassero bene questo video perché devo dare alcune informazioni sul canale beh questo canale che avevo aperto da anche 10 anni ma non ci postavo niente, c'erano solo alcuni miei video di lavoro ma perché ci tengo che guardiate questo video per darvi alcune indicazioni su come iscrivervi perché purtroppo youtube è bellissimo ma anche il lato negativo tanti commenti spariscono e non arrivano a destinazione e anche un po' per farvi conoscere il canale e come muoversi perché il mio canale è un po' un minestrone perché non parlo solo di un argomento ma tantissimi lo scopo di questo canale appunto come detto aperto 10 anni fa inizialmente era quello di inserire video dei miei clienti ma siccome magari questa cosa non mi interessa a molti ovviamente avevo zero iscritti e pochissime visualizzazioni quindi 5 anni fa ho cominciato a pubblicare i primi video e so che magari molte persone, molti youtuber crescono in maniera molto veloce ma visto l'argomento tecnico che io spiego di recensioni, tutorial, le visualizzazioni magari sono inferiori e poi non ho mai voluto forzare la mano di farmi pubblicità oppure di avere per forza l'iscritto ma a me piace che la persona si iscriva spontaneamente senza forzare la mano perché magari trova nei miei video e nei miei argomenti un aiuto aiuto che do volentieri a tutti quanti cerco di aiutare chi mi contatta tantissimi mi chiamano anche a casa addirittura quindi pensate su 5.000 persone se anche solo un quarto incomincia a telefonarmi e io ho installato un centralino e questo è per ridere ciò che mi dispiace di più è non potervi magari aiutare dal punto di vista tecnico se avete dei problemi uno perché le aziende non vogliono questo, le aziende vogliono che contattiate direttamente l'assistenza e questo per avere un tramite diretto appunto col cliente e sia perché non ne ho le competenze quindi se posso aiutarvi lo faccio molto volentieri ma andiamo invece a quello che è il mio canale e cosa ci trovate perché tutto sommato anche se diviso in playlist eccetera non appaiono così magari facilmente sul mio canale vi dirò in ordine di come sono anche apparsi i vari programmi ho iniziato a parlare di Blender non è un programma che conosco tantissimo sono un neofita ma lo uso da tantissimi tantissimi anni perché dico che sono neofita perché lo utilizzo solo per alcune cose ad esempio io lo utilizzo con la finalità del video ecco il mio canale deve essere un riferimento per chi cerca il programma nuovo quindi con le recensioni avete visto anche recentemente che ho inserito un video adesso andrò a fare qualche spiegazione se conoscevate Cavalry e quindi così quando viene fuori qualche novità o qualche programma poco conosciuto lo ritroverete sul mio canale sono tutti i software destinati all'utilizzo nei nostri video quindi nella videoproduzione perché questo è il mio lavoro quindi che si tratti di grafica 2D, 3D eccetera la finalità è sempre indirizzata al campo video ovviamente poi una volta imparato il programma si può farne qualsiasi utilizzo perché io stesso e tanti li uso per fare siti internet tanti per delle grafiche eccetera per cui non si limita sicuramente a quello quindi dicevo io ho iniziato con Blender e subito dopo ho inserito dei primi video sui programmi della Magix di editing video video deluxe di video deluxe questo perché avevo acquistato il programma e erano le versioni 2015 poi più avanti ho acquistato Video Pro X questo ancora 4 anni fa quindi ho incominciato a fare anche i tutorial su Video Pro X e dopo ogni tanto trovate così a flash dei tentativi di presentare un programma per vedere se qualcuno interessava per poter fare dei filoni alle volte invece trovate solo appunto 2-3 video di quel programma ho fatto video per Lightworks un bel programma di montaggio video ma tante volte lo abbandono perché perché se trovo la novità che funziona meglio oppure appunto capisco che non è così magari flessibile il programma preferisco abbandonarlo poi magari sta a voi alle volte dirmi no ci interessa molto quel programma prosegui la serie così sempre della Magix ho recensito anche programmi minori come FastCut che è un programmino per fare dei montaggi veloci così più amatoriali e anche in quello io non faccio grossa distinzione qualcuno mi dice ma ti sminuisci io non mi sminuisco perché io questo è il mio lavoro so con cosa farlo e soprattutto so come farlo e questo che io voglio anche insegnarvi è che alle volte anche delle risorse più semplici possono essere integrate o utilizzate in maniera professionale indipendentemente dal software se è un software legato a come indirizzo home sulla fascia home o al professionale ovvio che io se devo fare un lavoro di una certa qualità eccetera mi indirizzo a un certo tipo di software ma questo non sminuisce la mia persona se lo vado a presentare perché vado a prendere più utenze più interessi io stesso il programmino piccolo e il programma grosso e in questo troverete sicuramente nel mio canale tantissime risorse open source e free perché se si può scegliere e all'esempio di Blender ad esempio un programma dalle funzioni incredibili gratuitamente perché devo andare a pagare? perché devo pagare Premiere che mi costa un tot al mese, un tot all'anno se posso utilizzare DaVinci che è gratuito o anche se lo compro lo pago una tantum ecco questa è un po' la mia politica far tanto investendo il giusto diciamo non poco perché in questo campo bisogna investire a un mestiere che costa tanto per cui bisogna capire subito se si vuole farlo amatorialmente per le cose di casa eccetera o se è veramente il nostro mestiere così anche nelle telecamere io avrei possibilità di recensire tante prechiature hardware perché ho amici dappertutto e io vengo dalle televisioni quindi ho tantissime conoscenze nelle emittenti televisive e potrei entrare in tante e farvi vedere come si lavora eccetera così ho anche amici nel campo della vendita di hardware anche in aziende grosse però finora non li ho intervistati, non ho sentito non faccio cose nell'hardware perché sarebbe un po' un'altra cosa che non mi vede in prima persona anche se lo potrei fare in futuro potreste anche trovare qualcosa del genere un punto in seguito ho inserito altri programmi uno di questi che è sempre stato inserito 4 anni fa e trovate con più di 500 video è sicuramente Buffetitle Buffetitle è un software solo per Windows per i sistemi Windows che ho scoperto un po' per caso da un amico francese che leggevo su delle community, dei forum e ha detto ma cos'è questo programma così particolare e mi è piaciuto fin da subito perché è molto flessibile ha un prezzo eccezionale e dà risultati incredibili per cui Buffetitle lo troverete sempre nel mio canale e vedrete appunto che andrà anche come programma sempre migliorando anche perché io cerco di inviare feedback all'azienda è un'azienda molto aperta per cui recepisce e non solo perché proprio fa, lavora tantissimo e per cui ne abbiamo un vantaggio tutti quanti ho provato anche a recensire HitFilm però inizialmente ad esempio sia HitFilm che DaVinci mi sembravano dei programmi indirizzati molto all'effettistica DaVinci magari più la color e mi lasciavano molto perplesso dal punto di vista dell'editing vero e proprio del video HitFilm l'ho abbandonato a favore di DaVinci che le ultime versioni invece sono molto cresciute è un software che vedrete crescerà ancora tantissimo sempre della Magix invece troverete Sara Designer c'è un video 2 accennato Sara Designer è un software per il disegno vettoriale e per i siti interna inizialmente è stato sostituito più avanti da altri software indirizzati solo alla creazione di siti internet come Web Designer e altri e poi troverete invece sulla grafica 2D, 3D in 2D troverete Simfig Studio anche lì ho fatto solo pochi video ma invece nei programmi di montaggio di editing troverete tanti programmi che ho testato ad esempio Vegas Vegas ho testato le versioni 14 e 15 e avevo fatto vedere un video 2 sul 17 Vegas è un programma molto bello e mi sarebbe piaciuto continuare i tutorial purtroppo ho avuto poco supporto dalla Magix perchè purtroppo negli anni le persone con cui avevo i contatti sono andate cambiandosi e siccome Magix è un'azienda tedesca mi è difficile avere un contatto continuo soprattutto con la parte tecnica diciamo perchè ad esempio per Video Pro X o Video Deluxe avrei potuto fare anche beta tester ma c'erano difficoltà nell'avere i contatti giusti con l'azienda troverete anche video per OBS qualche youtuber con il discorso del lockdown ci ha guadagnato molto ma io già tre anni fa facevo vedere OBS e ci sono tante belle chicche su OBS nei miei video DaVinci DaVinci invece appunto come dicevo poco fa sono partito a vederlo tre anni fa se non prima ma comunque con la versione 12.5 avevo fatto qualche tutorial e lo stesso sempre tre anni fa per Fusion 8 che è la parte effettistica di DaVinci ma che trovate anche come programma esterno avevo testato perchè io utilizzavo precedentemente Avid Liquid come programma di montaggio dell'Avi che poi è diventato Media Composer e io ho testato Media Composer first però devo dire che proprio non c'entra niente perchè è indirizzato diciamo anche questo è un intro a quello che può essere Avid Media Composer che è un software con tanto di cappello ma ha completamente un altro prezzo per cui Media Composer l'ho abbandonato perchè non ritenevo opportuno seguirlo troverete invece sempre Del Outer Space che è la ditta che produce Bluff Title troverete Vixelangelo e Vixelangelo serve per creare gli EPS che accetta Bluff Title con quelli si possono fare dei percorsi delle immagini tracciate disegnate eccetera ma se andate a vedere il canale lo scoprirete e assieme a Vixelangelo ci sono tutta un'altra serie di programmini minori della Outer Space con i quali si possono anche andare a disegnare i font dei font colorati che possiamo utilizzare in Bluff Title eccetera come ad esempio Oppo Trace serve per andare a creare sempre EPS e tracciare da immagini vipmap a EPS e avevo fatto qualche esperimento con dei programmini quasi indirizzati al gioco tipo Mine Animator che servono per muovere degli Amini Minecraft volevo fare delle grafiche spiritose ma l'ho usato solo qualche volta invece dal punto di vista della grafica 2D, fotoritocco eccetera vi consiglio Affinity Photo, Affinity Designer e c'è tutto il pacchetto Affinity sono dei programmi meravigliosi io li utilizzo spesso e magari qualche tutorial potete trovarlo o potete trovarlo anche in futuro se me lo richiedete perché io li utilizzo quasi tutti i giorni questi software in questo troverete anche dei programmi così a spot che io scopro magari servono utilizzati all'interno di altri programmi come ad esempio anche plug-in, add-on cose che ci possono tornare utili tutti i giorni unite ad altro software cercate bene sul mio canale perché ci sono delle vere chicche magari poco conosciute e che vi servono la vita magari quando avete bisogno di fare quella data cosa e in questo esempio potete trovare FilterForge potete trovare Natron invece sui programmi di grafica vettoriale potete trovare Inkscape ma qua io potrei fare anche altri tutorial di Inkscape perché trovate sempre a spot ogni tanto magari mi serve fare qualcosa e ve lo faccio vedere anche a voi perché io condivido molto quello che faccio ad esempio trovate anche cose tipo Roccat che è un programmino che gira sui telefoni e sui tablet e che ci serve per andare a comandare il nostro computer questo ad esempio unito ad OBS ci permette di comandarlo senza dover fare attraverso schermo ma da remoto molto carino e cose che testo e provo ad esempio il SplitVcam che è il programma che vedete che sto utilizzando per mettere il background dietro questo video ecco anche cose così io le vado a recensire della Corel della Corel io ho fatto vedere Photomirage che è un programma simpatico per muovere le immagini fisse le foto potete creare delle animazioni simpatiche sulle foto e far muovere alcuni elementi invece della Pinaco trovate il sito Pinaco Studio varie versioni io ho cominciato con la versione 21.5 purtroppo delle precedenti non so nulla dovete pensare a una cosa io faccio questo mestiere da 30 anni e tante cose le ho viste quasi nascere tra virgolette perché quando lavoravo era tutto analogico e pensate che ho visto i primi computer che montavano e non facevano la dissolvenza se non avevano due hard disk potevano fare la dissolvenza solo se la stessa clip era copiata su un hard disk e su un altro perché le testine sugli hard disk non potevano muoversi velocemente per poter leggere l'hard disk da un punto e contemporaneamente un altro senza che facesse un salto così potevano fare la dissolvenza solo muovendosi da appunto da un hard disk veniva letta una clip poi l'altro hard disk leggeva l'altra come fossero due visualizzatori pensate cosa ho visto cose paleolitiche e dico agli amici di pinnacle perché ho visto che sono tantissimi e mi stanno seguendo in tantissimi che mi dispiace perché pinnacle è un programma che potrebbe crescere tantissimo un programma con tante funzioni però è un programma che ha tanti bug e purtroppo resta sulla fascia medio-bassa e anche come ho detto prima questo non vuol dire che non si possano realizzare in pinnacle cose meravigliose però purtroppo specie le ultime versioni hanno tantissimi problemi allora o salviamo ciò che c'è di buono in ogni programma e lasciamo perdere le parti perché questo c'è la premiere come da vinci parti che il programma ha dei bug che va in crash non pensiate che se pagate tanti soldi il programma sia esente da queste cose purtroppo è un insieme di software e vostro hardware e quindi pensate che una volta vi davano nel computer chiavi in mano se installavate qualcosa o toccavate qualcosa nel computer erano cavoli vostri perché chi vi aveva venduto il computer non ne rispondeva il computer era per il montaggio a giorno d'oggi invece il computer se lo avete in casa ci fate di tutto installate di tutto dal giochino per il figlio questo non va bene dal punto di vista professionale se installate miliardi di schede sicuramente quel software avrà problemi con quella scheda video o con quella cosa lì purtroppo bisogna avere anche un buon tecnico che ci aiuti e magari poter comprare un computer assemblato per le nostre esigenze e adesso una piccola indicazione su come raggiungere più facilmente un contenuto e analizziamo proprio il mio canale youtube beh qui trovate video nuovi semplicemente cliccando su questa piccola icona qui abbiamo la mia pagina facebook sulla quale potete contattarmi e magari dove è più facile inviare contenuti come foto vostro materiale in più c'è da pochi giorni un canale un gruppo telegram dove posto io delle curiosità del dietro le quinte ecco per dare delle informazioni più simpatiche e comunque poi potete raggiungermi anche su telegram invece come chat privata e i video qui sono suddivisi in evidenza trovate tutti i video inseriti in primo piano ci sono le lezioni da vinci resolve da vinci resolve fusion eccetera va in questa playlist subito sotto ci sono i video per magics video pro x e poi trovate un'altra playlist per pinnacle studio un'altra per raffle title per blender qui avete le playlist create scorrendo qui ci sono tutte le playlist create qua c'era una playlist per le transizioni che andavo a fare o per effetti e cose che davo però se premete playlist avete la visione di tutte le playlist create invece su video vi consiglio di cercare attraverso questa lente la chiave che desiderate se ad esempio volete cercare qualcosa relativo al chroma key scrivete chroma e premendo vi verranno tutti i video in cui ho parlato di chroma così se volete cercare non so una chiave di ricerca che sia nel titolo o nei commenti del titolo vi apparirà quel tipo di video che cercate per cui se cercate braff title ecco però se specificate una chiave particolare per braff title ad esempio braff title bigpacks vedete che avete solo l'elenco dei bigpacks che sono usciti ricordo che i bigpacks sono pacchetti di animazioni che si usano con bluff title quindi necessitano di bluff title quando mi scrivete questa è una cosa che purtroppo mi dispiace io purtroppo ho dovuto attivare dei filtri per eliminare parolacce e cose affini e link magari che non erano appropriati sul mio canale perché nel mio canale ci sono le persone più adulte eccetera come magari c'è il ragazzo se non il bambino per cui preferisco tenere una linea pulita sul mio canale e mi piacerebbe che anche chi si avvicina al mio canale avesse un certo tipo di linguaggio per cui ho dovuto inserire dei filtri che purtroppo alle volte vanno a bloccare link eccetera perché su youtube purtroppo più si sale più si è soggetti anche a spam e cose esterne per cui state attenti quando mi iscrivete e magari indicate un link di un video che volete io vada a vedere per riferimento eccetera siete sicuri che al 90% viene bloccata questa mail e purtroppo io trovo messaggi anche perché alle volte non è facile appunto su tanti iscritti riuscire a vedere tutto magari di 2-3 mesi prima e questo mi dispiace tantissimo perché io sono una persona che cerco di rispondere a tutti e io sono il primo che quando vado a scrivere su altri canali mi dispiace non ottenere una risposta quindi scusate già da subito se non avete ottenuto una risposta state attenti magari a riformulare la domanda inizialmente senza link che magari poi mi inviete in privato eccetera così quando fate riferimento anche la vostra stessa mail va a bloccare il messaggio anche perché mette a rischio la vostra mail da spam perché tutti la troverebbero sul canale e quindi viene bloccato il commento con mail e se non avete ottenuto una risposta contattatemi anche su altri canali io ho Facebook e ultimamente ho attivato anche Telegram magari anche in privato su Telegram potete inviarmi delle richieste o anche addirittura dei vocali e ultimamente ho attivato l'abbonamento voglio ringraziare tutti gli abbonati che sono già abbastanza e non ci credevo questa cosa è stata un po' un esperimento però ho cercato appunto di inserire più risorse in futuro troverete sicuramente migliorata questa cosa e migliorata appunto anche la comunicazione verso di voi sapete che avete anche una priorità ad esempio nelle chat nelle live come commenti che vengono evidenziati subito perché avete il vostro banner che vi distingue e quello che mi farebbe piacere anche qui è sapere magari perché vi siete abbonati perché software in maniera che io vado a inserire risorse ovviamente sono risorse che posso distribuire risorse gratuite o di mia produzione per cui magari vi fa più piacere ricevere più cose per DaVinci e non per Buffet Title o viceversa ecco quindi vi ringrazierei se anche in questo potreste aiutarmi inviandomi dei consigli dei feedback sul tipo di risorsa che pensavate di trovare abbonandovi bene io penso di aver detto tutto fate attenzione io non ho fatto tantissimo finora live ho fatto un po' di live mi piacerebbe farne di più in futuro anche se le live vengono ancora un pochino più perse nel canale non c'è una buona maniera di raggrupparle però è una maniera anche di avere più contatto fra voi magari programmandole bene sapete quando le live vanno in onda qual è l'argomento e magari vi facilito ad essere presenti per quanto riguarda le premiere perché vedo in tanti canali che dico mi saluti mi saluti durante una premiere la premiere è un video pre registrato e quindi quando va in onda non c'è maniera di interagire c'è solo la chat io vi dico che nel 99% dei casi io seguo tutte le premiere l'avete visto? per cui se mi fate una domanda durante le premiere io non posso rispondere subito perché non sono in diretta è un video indifferita però ne tengo conto vi rispondo subito o me lo scrivo e vi rispondo in futuro sappiate appunto che la premiere non è una cosa con cui si può interagire mi saluti ciao mi rispondi a questo in questo momento perché è un video pre registrato che va in onda a un certo orario ma questo i miei iscritti lo sanno bene lo dico solo magari per chi si avvicina per la prima volta al mio canale e io ci tengo a precisarlo perché tanti sfruttano questo discorso della premiere facendo credere al loro pubblico che sia di essere in diretta e invece questo no io vi ringrazio ancora tantissimo lasciatemi tanti commenti sotto questo video di consigli o come farete voi e ci vediamo nei prossimi giorni ciao